Cristian Zago Buongiorno, sono Cristian Zago. Voglio introdurvi brevemente il vino che avete di fronte in quanto molto particolare. Premetto una cosa, Cadei Zago è un'azienda agricola familiare che dal 1924 vive e lavora coltivando 6 ettari di vigneto a Val d'Aliade, oggi in gestione biodinamica. Dal 1958 produciamo solo questa tipologia di vino. Proseguo col fondo, è un vino frizzante ottenuto con la tecnica della presa di spuma in bottiglia. E' fin qui nulla di particolare. Quali sono le peculiarità? Al termine della presa di spuma in bottiglia il lievito non viene accumulato nel collo della bottiglia ghiacciato e rimosso ma rimane all'interno della stessa. In particolar modo queste vengono poste in posizione verticale in modo tale che lentamente il lievito si vada a deporre nel fondo della bottiglia. Così nasce un secco col fondo. Non essendo degorgiate le bottiglie non vengono mai aperte e vi vengono impossibili da fare ogni genere di correzione. Il vino arriva a voi così come è nato. Completamente secco, senza residuo zuccherino, con quantitativi di soffitti bassissimi che trovate nella retro etichetta assieme alla data di imbottigliamento. La presenza in questa tipologia di prosecco di una leggera turbidità alcalice non è da considerarsi come un difetto ma bensì come caratteristica. Altra cosa importante ha una grande longevità nel tempo in quanto in cantina lavoriamo per preservare gli equilibri della materia prima creati in divento. Rappresenta la tradizione del mio paese. Prima dell'avvento della moderna tecnica di spumatizzazione il prosecco esisteva semplicemente così, col fondo. Grazie.